Buoni truccioli e ben ritrovati come di consueto da Riccardo qui sul canale YouTube eBG Models. Oggi voglio tornare sull'argomento delle torniture fini di materiali sottili. Questa ad esempio è una barretta da 4 mm a cui ho fatto una tornitura qui sulla cima di 2,5 mm. Naturalmente questa è un'operazione piuttosto insidiosa perché anche se potessi tenere questa barretta con una contropunta si potrebbe flettere mentre faccio la tornitura e quindi farebbe dei pasticci, scapperebbe sopra il tagliente. Potrei andare incontro a delle noie per così dire. Quindi ho presentato qualche tempo fa, ormai parecchio tempo fa, una lunetta mobile che faceva quello che doveva fare però era un po' difficile da regolare e bisognava fare alcune prove prima di diciamo beccare per così dire il diametro corretto. Volevo qualche cosa di più affidabile con magari una regolazione micrometrica dell'asportazione del materiale. Quindi è nato un altro utensile che ho reputato veramente interessante per cui ve lo voglio mostrare in questa videopillola e quindi andiamo subito a vedere questa nuova lunetta mobile. Vediamo. Bene, quindi andiamo a vedere come ho realizzato l'utensile. Per questo progetto ho preferito fare un disegno tecnico al computer per avere chiare le idee, tutte le disposizioni dei vari componenti, eccetera. Siccome è abbastanza articolato ho preferito avere le idee molto più chiare, facendo il disegno si hanno le idee molto più chiare rispetto a quello che si dovrà fare. Anche per le sequenze delle lavorazioni, eccetera. Quindi sempre se si ha voglia e tempo è sempre meglio fare un bel disegno tecnico che non improvvisare, ma a meno che siano pezzi molto semplici, si può anche improvvisare, però in questo caso ho preferito. Allora, in pratica io sono partito da un pezzo di acciaio, quindi un parallelepipedo di acciaio, della dimensione di 15 di spessore 30x50, quindi 30x50. La prima cosa che ho fatto è questo foro qui da 20 mm, che è in pratica proprio nel centro del pezzo qui, rispetto a questa quota, nel centro, e spostato di 15 mm rispetto al bordo. Questo è in pratica dove passa il tondo da lavorare. Poi ci sono questi due fori filettati M4, questi qua, uno e due, sono un pochettino spostati rispetto alla mezzeria del pezzo, come spessore, vedete, questi qua. Perché? Perché sono quelli che verranno, su cui si monteranno gli organi, questi fermi, questi organi di tenuta del pezzo da lavorare, vedete. Questi sono praticamente M4, sono, infatti in questa maniera, c'è un pezzo di barra filettata di ottone, in questo caso, con delle manopoline zigrinate. Ok, si può fare naturalmente come si vuole. Ecco, questo, vedete, è un po' più avanti rispetto al verso di tornitura del tagliente. L'inserto che farà la lavorazione è posto esattamente nel centro, nel centro dello spessore del pezzo, vedete. Quindi è a 7,50 di quota. Quindi qua c'è un foro, questo qui, che porta l'utensile, l'inserto. L'inserto ho preferito farlo tondo, perché ho visto che comunque non si sposta durante le operazioni, se si fa un po' attenzione, insomma, di fare le operazioni come si devono fare, non ha tendenza a girare, per cui si può regolare anche, eventualmente, come altezza del tagliente. Questo qui, infatti, è l'inserto. Vedete, sono partito da una barra tonda, una barra tonda di questo genere. Questo è metallo duro, è un materiale durissimo, si può lavorare praticamente qualsiasi cosa, perché è veramente di una durezza molto, molto elevata. Ne avevo una barra a disposizione, quindi l'ho utilizzata. Questa è del diametro di 5 mm, quindi ne ho preso un pezzettino e l'ho molato in questa maniera, come normalmente, diciamo, si molano, si molano il tagliente per un utensile che deve fare questo tipo di lavorazione. Bene, questo, naturalmente, va a essere posizionato qui, in questo foro, e il tagliente dovrà essere praticamente sull'asse di questo organo di tenuta, vedete, di questo fermo qui. Naturalmente, ruotandolo si può regolare. Per manovrare in maniera micrometrica questo inserto, esiste questa vite. Non è segnata qui, perché ho fatto solo il disegno del corpo, diciamo, del corpo del supporto dell'arto arretta. Quindi c'è questa vite qui, che è praticamente una vite M3, con un passo da 0,5 mm, e questo è un, diciamo, ricavato da un tondo di ottone, da 10 mm, e ho fatto 10 divisioni con il mio divisore mosso da Arduino, che trovate anche, il progetto lo trovate anche qui sul canale YouTube, e VG Models, e ho fatto queste 10 divisioni. 10 divisioni significa che ogni divisione fa un avanzamento di 0,05 mm, se il passo della vite è 0,5, diviso 10, fanno 0,05, per cui una divisione, in pratica, diminuisce il diametro di 0,1 mm. Con 10 giri, io ho la riduzione di 1 mm di diametro. Allora, come funziona? E allora, naturalmente il foro era da 5, quindi mi sono servito di un pezzo di vite, e ho fatto questo piccolo adattatore per la vite, vedete, qua c'è un foro filettato, la vite è una vite M6, e siccome il foro è da 5 mm all'esatto per il mio inserto, avevo già la dimensione pronta per filettare M6. Quindi, in pratica, mettendo questo componente qui, vedete, metto questo componente qui fino in fondo, poi posso mettere la vite, perché ha il filetto interno da 3. Ho messo poi una molla per tenerlo, diciamo, in posizione che non si possa muovere da solo, quando, con le vibrazioni della tornitura, eventualmente, eccetera. Questa è una molla comunissima di una penna, di una vecchia penna, e quindi poi si mette così, e in pratica andrà a spingere l'inserto per fare la regolazione. Questa che vedete qua è la vite che, in pratica, blocca l'inserto in posizione. Quindi questa blocca l'inserto in posizione, basterà mollarla un pochino, per far sì che questa regolazione micrometrica possa andare a spingere il nostro inserto nella posizione voluta. Poi, naturalmente, qui c'è questo cursore, per andare a vedere dove siamo posizionati con le nostre tacche. Una volta che abbiamo regolato, si può dare di nuovo un quarto di giro, e fissare l'utensile, l'inserto, nella posizione che abbiamo scelto con questa vite micrometrica. Cosa dire d'altro? Beh, ci sono poi, c'è questa parte qui, che, naturalmente, è semplicemente una parte, questa, che regge tutta questa parte qua, diciamo l'utensile vero e proprio, sulla torretta. Quando si mette questa, bisogna stare attenti ad avere tutto in linea, quindi questa faccia qui, con questa faccia qui, che sia bene parallela. Bene, quindi vediamo la regolazione. Si inizia col supporto superiore, che, praticamente, deve essere sul diametro del pezzo da lavorare, del tondino da lavorare, vedete. La profondità di questo supporto si deve regolare in maniera che sfiori il nostro tondo, però non lo faccia deflettere. Quindi è a contatto, in questo momento, col tondo, e, praticamente, lo sfiora. A questo punto si può regolare quest'altro supporto, in maniera che, anche questo, praticamente, vada a sfiorare. A questo punto si può stringere il dadino di blocco, tenendo fermo, naturalmente, il supporto, in maniera che non si possa muovere. Quindi, vedete che ci siamo. Bene, adesso dobbiamo andare a mettere, appoggiare, praticamente, sulla superficie del tondino da lavorare, la punta dell'utensile. Quindi, in pratica, molliamo un attimo il fermo dell'utensile, e poi, con la vite di regolazione, andiamo a sistemarlo, finché siamo giunti, praticamente, a battuta. A questo punto possiamo regolare la profondità del tagliente. Bene, quindi, tutto pronto per fare la tornitura del nostro tondino da 4 mm. Un po' di olio da taglio per evitare anche l'attrito contro gli organi qui di tenuta. E adesso possiamo fare la tornitura. vedete come i due organi che tengono il tondino lavorano bene, non c'è alcuna flessione del tondino mentre viene eseguita la tornitura del tondo. Il tensile taglia perfettamente. Ok. Adesso vediamo il risultato. Bene, quindi, ecco qui la nostra tornitura di questo tondo. Andiamo a vedere quanto è venuto. direi che è piuttosto preciso, vedete. Anche, diciamo, uniforme come diametro dall'inizio alla fine perché naturalmente la lunetta ha guidato il tondo in maniera che non potesse muoversi e quindi la tornitura è venuta precisa come ci aspettavamo. Quindi molto interessante questo strumento, questo utensile per fare torniture di questo genere con spostamento micrometrico del tagliente. Beh, devo dire che questa nuova lunetta mobile con questa regolazione micrometrica promette di fare delle ottime lavorazioni, devo dire. Quindi mi sono divertito a farla, non è particolarmente complessa da fare ma anzi abbastanza divertente si può fare in una giornata un weekend diciamo così anche questo è un progetto del weekend però molto interessante per fare queste lavorazioni ma non solo si possono fare anche lavorazioni su materiali che siano flessibili ad esempio il plexiglass per magari fare quei bulini ottici con quelle ottiche diciamo fatte che devono avere certe caratteristiche e quindi tornire parti appunto che possano flettersi facilmente e che siano difficili diciamo da tornire per ottenere un diametro costante quindi spero che questo utensile vi piaccia che vogliate replicarlo con le vostre dimensioni con quello che deciderete che vi serva come spunto come idea per una realizzazione vostra bene se vi è piaciuto naturalmente mettete un like vi ringrazio per aver visto questo filmato ci vediamo qui sul canale youtube bgmodels oppure sul sito bgmodels.it iscrivetevi al mio canale mettendo anche cliccando anche sulla campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video ci vediamo presto grazie a tutti ancora e buoni truccioli grazie a tutti